A due giorni di distanza dalla vittoria conseguita su Trento, ci si domanda se la prestazione di Ivan Buva sia stata frutto del caso o davvero il ragazzo croato abbia cominciato a percorrere la retta via. Di sicuro la performance dell'ex canturino ha esaltato i sostenitori della Sidigas ed è stata trascinante anche per i compagni di squadra. La presenza di Buva nel pitturato si è fatta sentire su entrambi i lati del campo, non soltanto per i punti realizzati, ma anche perché è stato un punto di riferimento. Agonista al rimbalzo, con il talento necessario per fare canistro, è puntuale nel chiudere le penetrazioni. Il lungo Biancoverde ha fatto tutto ciò che ad Avellino mancava, o almeno è mancato nelle precedenti gare. Ci si chiede, a questo punto, se la Sidigas possa contare su questo giocatore o debba comunque cambiare. Perché il reparto lunghi dei Biancoverdi rappresenta comunque un grosso punto interrogativo. Gli unen a parte, gli altri componenti non sembrano essere poi così affidabili. Pini ha una schiena che lo costringe ad essere gestito. Cervi può rappresentare un'arma, ma alle volte, i suoi 214 centimetri, possono ritorcersi contro. Buva è incostante e vivi di continui sbalzi d'umore. La partita di domenica ne è la testimonianza. Ecco perché il successo e la buona gara del lungo di Zagabria non sciolgono i dubbi. Alberani e Sacripanti sono pensierosi e continuano a sondare il mercato alla ricerca di qualcosa di più certo. Tra i nomi ci sarebbe quello di Charles Chuck Davis, lungo che ha svernato nelle ultime 6 stagioni al Bambit in Turchia, con eccellenti risultati. Atletico e tecnico, con un ottimo tiro da fuori, ed un passaporto a zero che gli permette di giocare da comunitario. Avellino lo starebbe seguendo con attenzione e sarebbe pronta ad avanzare un'offerta. Sebbene il giocatore costi, De Cesare sarebbe disposto a fare un sacrificio economico. E' chiaro che l'operazione è da fare nelle prossime ore, altrimenti spazio a Buva, nella speranza di vederlo pimpante come contro Trento. D'altronde, dopo 5 giornate, Avellino è 2 vinte e 3 perse, e la squadra è appena all'inizio del suo percorso. Magari cambiare non sarebbe poi la scelta più giusta. Intanto, questo pomeriggio, i biancoverdi riprenderanno la preparazione atletica al Palo del Mauro, agli ordini di Silvio Barnabà.